Complicità tra Eleonore Casalegno e Vladimir Luxuria, una partnership unica. Ciao a tutti, amici del blog. Oggi voglio parlarvi di una notizia che sta facendo discutere. Eleonore Casalegno svela di conoscere da tempo la conduttrice Vladimir Luxuria. Quando si conduce un programma televisivo, è essenziale avere un ottimo rapporto con gli opinionisti e gli inviati. Eleonore Casalegno, nuova inviata dell'Isola dei Famosi, ha dichiarato in una mini-intervista a tv sorrisi e canzoni di conoscere da tempo Vladimir Luxuria e di essere complementari. Ma non è tutto. Eleonore non vuole svelare che Lux sfoggerà durante la trasmissione. Ha rivelato che sta ancora lavorando sugli abiti e che non saranno banali, lasciando così il pubblico in attesa di una sorpresa. Passando al cast dell'Isola dei Famosi 2024, possiamo aspettarci prove molto dure per i naufraghi. Nomi come Valentina Vezzali e Matilde Brandi promettono sfide interessanti. Mentre Joe Bastionec ed Edoardo Franco potranno mostrare le loro abilità culinarie provenienti da Masterchef. Insomma, la nuova edizione promette divertimento e severità. Con i naufraghi che dovranno fare i conti con razioni limitate, caccia e pesca. Il pubblico è sempre più curioso di vedere il debutto di Eleonore Casalegno come inviata. Che ne pensate di questa notizia? Siete pronti a seguire l'avventura dell'Isola dei Famosi 2024? Fatemi sapere nei commenti. A presto con nuovi aggiornamenti dal mondo dello spettacolo. Ti è piaciuto il video? Iscriviti al canale, metti un like e attiva la campanella.